Per la prima volta la Regione Marche è presente durante il Festival di Sanremo che sappiamo essere un'occasione unica dove c'è tanta partecipazione di pubblico sia in presenza che ovviamente seguito a tutti i livelli, quindi sia attraverso le televisioni che attraverso i canali social. Tra l'altro la Regione Marche sarà protagonista, ovviamente insieme alla Regione Riguria perché è la Regione che ospita, ma sarà l'unica Regione presente all'interno di questo villaggio, del villaggio appunto del Festival, dove ci saranno quindi cinque giornate che saranno dedicate alle cinque nostre province, quindi dove ogni provincia avrà l'opportunità di presentarsi, di far conoscere le proprie eccellenze, sia culturali che gastronomiche, comunque tutta la bellezza della nostra Regione e quindi siamo assolutamente favorevoli e abbiamo fortemente sostenuto questo progetto insieme ovviamente alla Camera di Commercio che è l'ente promotore e quindi abbiamo sposato subito questa opportunità. Entriamo in un mondo nuovo di promozione del nostro territorio che non è fatto solo di fiere, ma seguiremo il percorso iniziato con la BIT del 4-5-6 di febbraio, continuando 5, 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio al Villaggio Festival di Sanremo, all'interno della Kermesse di Sanremo. È un modo nuovo di presentare le Marche e saremo la Regione in via esclusiva presente, oltre la Liguria, perciò dovremo essere bravi, ecco perché abbiamo messo in campo anche il lanci con tutti quanti i comuni a dare la visibilità ai nostri territori. Credo che sia il modo perfetto per essere sicuri che ci sia una rappresentazione autentica delle nostre Marche, i nostri comuni hanno voglia, hanno bisogno di essere conosciuti nel contesto italiano e anche in quello europeo, perché Sanremo è una vetrina oltre che italiana, anche internazionale, sicuramente poi c'è un'area interna della nostra regione, che è quella anche del sisma e non solo, che ha particolarmente bisogno di essere raccontata e raccontata positivamente così come sta portando la ricostruzione, cioè a una ripartenza veramente di territori che sono di uno splendore naturale veramente eccezionale.